Buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuti a tutti. Diamo inizio alla conferenza stampa di vigilia del nostro allenatore Massimiliano Allegri. Cominciamo con una domanda a testa del nostro canale, prego. Buongiorno mister, Andrea Besenzoni, Juventus TV. Trasferta molto importante domani, anche perché arriva nel primo momento forse un po' complicato della stagione. E allora le chiedo, su quale aspetto vi siete maggiormente focalizzati dopo l'Udinese come squadra? Sicuramente aver fatto un punto in tre partite non è un bel momento, soprattutto abbiamo fatto un punto in due partite in casa. Domani sappiamo che la trasferta di Verona è sempre complicata, perché comunque è un campo difficile. La squadra loro non sta facendo male, anzi, il Barone sta facendo un ottimo lavoro nelle condizioni di difficoltà in cui è. Ha perso a Milano al novantesimo, a Napoli è uguale fine partita. Domenica pareggiata a Monza, quindi bisogna fare una bella partita. Soprattutto bisogna avere un atteggiamento migliore di quello che abbiamo avuto nelle ultime partite, ma non tanto come prestazione, ma soprattutto come attenzione dei dettagli. Buongiorno, riguarda la Sky Sport, la prendo un po' alla lontana. Circa sette anni fa in questo periodo, dopo una sconfitta a Firenze, ci fu una sorta di ribaltone tattico, se lo ricordavo, che dire, Pjanic, Dybala, non la voglio far commuovere, sento i nomi di Manjic, eccetera, eccetera. No, arrivo a questo. Nella sua testa c'è in questo momento di fare qualcosa del genere? Oppure, visto che ancora la Champions non è blindata, preferisce continuare così che ha più certezze? Grazie. No, assolutamente. Continueremo così perché non sono tre risultati negativi che possano cambiare quello che è l'andamento della stagione. Quello di Firenze, quell'anno lì, fu un anno differente. Innanzitutto avevamo sette punti di vantaggio prima della partita di Firenze, perdendo a Firenze andammo a quattro di vantaggio, ma in quel momento lì c'era bisogno di cambiare, secondo me. Ora non c'è bisogno di cambiare. Le prestazioni, sia con l'Udinese, con l'Empoli è stata una partita, diciamo, dove sono rimasti in dieci, con l'Inter stessa. Non sono state le brutte prestazioni, sono state le prestazioni che vanno in linea con quella che è stata la stagione della Juventus nelle prime 23 partite, 22 partite, andando a migliorare sicuramente le prestazioni e i giocatori singoli. Dov'è che abbiamo pagato? Abbiamo pagato sicuramente nei dettagli, perché non puoi prendere un gol in casa come abbiamo preso con l'Udinese, su palla inattiva, come abbiamo preso a Milano, dove sicuramente potevamo prendere il gol su una ripartenza, come nel secondo tempo, ma non in quella situazione lì. Quindi sono stati i dettagli che in questo momento qui hanno fatto la differenza, come in tutte le partite. Quindi bisogna avere un atteggiamento di maggiore attenzione in quella che è alla cura dei particolari, che poi sono quelli che ti fanno vincere o perdere le partite. Buongiorno, mister Giovanni Albanese, Sport Italia. Le chiedo se domani c'è la possibilità di rivedere dall'inizio la coppia Blaovic-Chiesa. Grazie. A questo devo valutare. Per quanto riguarda Federico, Federico sta venendo da un periodo, diciamo, nell'ultimo mese e mezzo, ha alternato allenamenti a non allenamenti, partite a non partite, e sta trovando una condizione migliore e sicuramente sarà molto importante per il nostro finale di stagione. Domani dovrò valutare, innanzitutto domani ho quattro attaccanti, perché rientrerà Vlaovic, ci saranno Milic, Chiesa e Ildiz. Ecco, più abbiamo Ken che sta lavorando e speriamo di averlo il più presto possibile. Comunque domani avremo tutti a disposizione e soprattutto, indipendentemente chi scende in campo dall'inizio o chi subentrerà, domani l'importante, ripeto, è avere un atteggiamento diverso e bisogna fare qualche cosa in più, soprattutto nei dettagli e nelle situazioni dove possiamo prendere gol. Buongiorno mister, Filippo Cornacchia, la Gazzetta dello Sport. In settimana la Juventus ha tagliato quota mille giorni senza trofei. Lei che ha vinto tanto, che è un vincente, ha vinto sei scudetti, tanti trofei anche con la Juve, come vive questa situazione? Ci si abitua? Non ci si abitua? È frustrante? E quanti giorni, secondo lei, dovranno passare ancora per vedere la Juventus vincere? Ma non è assolutamente frustrante. Innanzitutto sono stato fortunato a vincere tanti trofei, a avere delle squadre importanti che mi hanno regalato questi trofei. Poi, la realtà, come succede quando chiudi dei cicli e ne apri altri, innanzitutto diciamo che le cose, a seconda che punto di vista le vedi, dai un valore o ne dai un altro. La Juventus, sì, è vero che è due anni che non vinciamo un trofeo, però abbiamo quest'anno la possibilità della Coppa Italia, ancora in ballo. Non ci hanno fatto giocare la Champions, comunque, perché non per demeriti della squadra l'anno scorso, ma per altre problematiche. In una fase dove la società, non da ora, ma da quando sono tornato, ha chiesto determinate cose e le stiamo portando avanti ora con i nuovi dirigenti. Al netto di tutto ciò, la Juventus momentaneamente, dal 2011, non è mai rimasta fuori dalla Champions, parlando di risultati sportivi. Mentre, e questo sembra una cosa da poco, quando ristrutturi e ricrei una nuova squadra con dei giocatori diversi. Mentre ci sono state squadre che sono state anche 6-7 anni senza giocare la Champions, perché non è facile e scontato. Quindi vuol dire che alla base di tutto, nonostante che la Juventus è abituata a vincere i trofei, purtroppo quando ti abitui e ti alleni a vincere, quando non vinci sicuramente non è frustrante, però, diciamo, devi fare qualcosa in più per tornare a vincere. Poi ci sono anche gli avversari, però intanto la Juventus si è garantita sempre la Champions e quindi questo è già un buon obiettivo. E ora bisogna cercarlo di fare quest'anno, perché momentaneamente non siamo in Champions, mancano ancora tanti punti e quindi bisogna innanzitutto domani riprendere a fare punti, riprendere il cammino da qui al 26 di maggio. Buongiorno, commissario. Marco Vendizi, signora Mia Calciognusa, le chiedo dall'alto della sua esperienza. Non le chiedo della partita di domani col Verona, cosa farà la Juventus, come entrerà in campo. Cosa potrà essere invece la Juventus del futuro con questi giocatori giovani, con altri che ne arriveranno, però la base c'è. Qual è la prospettiva dall'alto della sua esperienza? Lei non ha la palla di vetro, ovviamente, ma la sua esperienza ci può raccontare qualcosa. Grazie. Io credo che bisogna fare un passo alla volta, è giusto che sia così. Innanzitutto cerchiamo di finire al meglio quest'annata, cercando di ottenere il massimo in queste 15 partite, iniziando domani e facendo tesoro di quello che abbiamo buttato nelle ultime tre partite. Ripeto, le prestazioni non sono state tanto diverse, sono state migliori magari delle prestazioni iniziali, però nel calcio abbiamo vinto delle partite a Salerno al novantesimo, col Verona al novantesimo, al Monza al novantesimo e ci sta dei momenti in cui ti vanno un po' le cose, diciamo, al contrario. Noi bisogna essere bravi a non farle andare al contrario e quindi bisogna riprendere il cammino. Per quanto riguarda quello che sarà della Juventus, Salerno al novantesimo, ha una squadra, una rosa, con dei giocatori molto giovani, 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 che hanno, tanto quest'anno hanno fatto esperienza di giocare delle partite importanti, vedi quella di Milano dove abbiamo giocato per il primo posto, va bene, e poi comunque ha dei dirigenti con Manna, con Giuntoli, che sicuramente faranno di tutto per rinforzare questa squadra, perché comunque l'anno prossimo la squadra ci saranno, speriamo, fino a che non ci sarà la matematica, la certezza e la Champions, ci potranno essere molti più partiti. Sì, Stefano Sarandini, tutta Sport, buongiorno, ciao Max. Senti, rifacendomi a quello che hai detto prima, l'attenzione ai dettagli, pensi che il fatto che la squadra arrivasse da una serie di partite, prima di Empoli, in cui ha segnato parecchi gol, in Coppa, anche in campionato, col Sassuolo, abbia indotto a illudersi di aver trovato un equilibrio diverso, più offensivo e quindi un'attenzione minore alla sicurezza difensiva, alla ferocia difensiva e se l'idea di conquistare la Champions ti affascina il più in fretta possibile matematicamente perché così potrai anche discutere del tuo futuro con la società quando avrete raggiunto questo obiettivo. Grazie. Per quanto riguarda il mio futuro, ho sempre detto e lo ripeto, verrà annoia, ho ancora un anno di contratto e stiamo lavorando bene quest'anno e l'importante è arrivare in fondo nelle migliori condizioni con un ottimo risultato. Per quanto riguarda invece la fase difensiva sono dettagli, sicuramente quando le cose vanno molto bene, diciamo vanno bene, c'è un abbassamento di attenzione, questo sicuramente è responsabile. Non è colpa di nessuno ma è responsabilità di tutti, sicuramente il primo responsabile sono io perché magari non sono riuscito a tenere con l'attenzione alta che serviva per battere l'Empoli e per battere l'Udinese. Ciao Antonio, Paolino Radio Bianconera. Un po' su questa falsa riga dell'ultima domanda, ti volevo chiedere nei dettagli, fai spesso riferimento al discorso della compattezza difensiva, a non subire il gol, però parliamo di due partite in casa o anche con l'Inter dove magari si è prodotto meno di prima. Gatti, Rabiot, Vlaovic sono i giocatori uno per reparto che segnano di più, 3-3-12 però. Ti sembra che nei dettagli manchi a questa squadra un qualcosa in fase di costruzione maggiore e se è servita questa settimana magari una strigliata? Grazie. Strigliate non servono in questi momenti perché un conto è il risultato, un conto è la prestazione con l'Udinese, vedendo un po' i numeri, che io non sono amante di tutti quei numeri, però comunque abbiamo tirato 13 volte in porta e noi tiriamo di media 13 tiri a partita. Di solito la nostra media è 5 occasioni a partita, con l'Udinese ne abbiamo fatte 6 se non sbaglio e non è fatto gol, quindi non è che, ripeto, non è che la prestazione è stata peggiore, poi dopo il risultato condiziona il giudizio come è sempre stato ed è giusto così. Ma noi che siamo dentro bisogna analizzare quello che è la prestazione, altrimenti ci facciamo travolgere dagli eventi e questo non va bene perché sia quando vinciamo ma quando perdiamo mantenere l'equilibrio è la cosa più importante. e con l'Udinese abbiamo fatto una buona partita. Poi se nel dettaglio della palla inattiva lì abbiamo peccato, abbiamo sbagliato e siamo stati puniti. Magari in un altro momento la palla sarebbe andata fuori perché il calcio è questo, però noi bisogna rimettere attenzione in quelli che sono i dettagli. Buongiorno, Massimo Lanari, Rai TGR Piemonte. Chiesa e Ildiz possono giocare insieme anche in prospettiva. Ci state lavorando? Grazie. Stiamo lavorando tutti i giorni perché comunque più giocatori offensivi, più giocatori di qualità riuscirò a mettere in campo e meglio è. Però poi c'è un equilibrio di squadra, c'è la condizione dei giocatori, il calcio non è un'equazione matematica perché altrimenti sarebbe tutto facile. Capisco che tutti questi discorsi vanno bene, però dopo c'è da metterli in campo, c'è da fare dei risultati e quindi devo cercare di valutare anche il momento e la condizione dei giocatori. Però l'importante è avere nella rosa giocatori come Chiesa, come Federico che sicuramente sarà un giocatore importante a cui alla fine, come lo sarà per la nazionale all'europeo, come Ildiz che comunque ha 18 anni e ha già giocato un po' di partite all'Iventus e come tutti gli altri. Tutti insieme bisogna riprendere già da domani facendo fatica perché domani sarà una partita molto faticosa come tutte, ma in questo momento ancora di più a mettere un pochino più di attenzione. Salve mister, ho deni una stampa. Proprio su questa partita io volevo chiederle come ha lavorato questa settimana, visto che spesso sorridendo, mi ricordo Cesni parlò di lei con un bravo psicologo quando c'era da mettere la tensione giusta o toglierla. Lei prima ha accennato un po' sul discorso della tensione, cioè forse magari bisognava alzarla un po' di più cogliendo dei pericoli. Allora le chiedo, in una partita così dove oggettivamente l'Iventus è obbligata a vincere proprio per riprendere la marcia e dare un segnale. Quali tasti ha toccato a livello psicologico e quale reazione si aspetta dai suoi giocatori? Grazie. Quali ho toccato? Solamente in questi momenti più parliamo e meno facciamo. Invece c'è molto da fare perché fare risultato domani è molto più impegnativo di altre volte perché comunque veniva un periodo negativo e quindi abbiamo analizzato le ultime tre partite dicendo queste cose, gli ho detto queste cose qui, delle prestazioni, del fatto di mettere più attenzione ai dettagli e nei particolari. Poi dopo domani bisogna cercare di correre più degli altri, mettersi al pari degli altri perché poi sicuramente abbiamo delle ottime qualità tecniche, però se non ci rimettiamo al pari degli altri e a correre uguali agli altri, anche più forti degli altri, dopo faremo fatica. Buongiorno mister, Nicola Balice, calciomercato.com e la stampa. Dopo queste due settimane voglio chiedere che idea sia fatta di Alcaraz soprattutto e se si potrà rivedere in campo magari anche domani che tipo di giocatore è secondo lei e anche sui progressi eventuali di Tiago Diallo se potremo vederlo in campo da qui alle prossime settimane. Grazie. Per quanto riguarda Alcaraz è un ragazzo, un giocatore bravo che sta crescendo e soprattutto ha una capacità di apprendimento molto veloce. È normale che da due settimane, domenica lunedì con l'udinese non l'ho fatto entrare perché la situazione c'è bisogno di altri giocatori in campo, però sono molto contento di quello che sta facendo. Per quanto riguarda invece Giallo, Giallo viene da un infortunio, ha ripreso a lavorare bene con la squadra e sta crescendo e magari avrà possibilità anche lui di rendersi utili da qui alla fine della stagione. Buongiorno Misterio, amica Lede Blasis, oggi sportenotizze.it. Io faccio un passo avanti già nella prossima stagione. In questa settimana è tornato a parlare Antonio Conte e della sua voglia di ritornare ad allenare. Quanto le piacerebbe affrontarlo nella prossima stagione e se per lei magari può essere anche uno stimolo ulteriore? Per quanto riguarda, non so perché non so dove andrà ad allenare, sicuramente Antonio è un grande allenatore che ha fatto ottime cose dove ha lavorato e quindi vedremo. Intanto io credo che prima di pensare a queste cose, la cosa più importante per noi è quella di arrivare, innanzitutto cercare di arrivare a domani nelle migliori condizioni per fare risultato da Verona. E poi cercare di arrivare in fondo alla stagione centrando quello che è l'obiettivo principale, numero uno, di giocare la Champions e questa è la cosa più importante. Poi dopo avremo una bella semifinale Coppa Italia con la Lazio e quindi abbiamo tre mesi belli davanti da vivere con grande entusiasmo, con grande passione e con grande voglia di fare dei risultati. Grazie a tutti. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a tutti.